Buongiorno a tutti, nella box del divertendo di oggi vi presentiamo il nostro tonnarello alla matriciana. Quindi troverete tonnarelli, amatriciana e fecorino romano. Possiamo procedere. Abbondante acqua, mettiamo il nostro tonnarello. Saranno sufficienti 4-5 minuti perché poi andrà finita in padella. Quindi prendiamo il nostro sugo alla matriciana. E lo facciamo scaldare in padella. Aggiungiamo un mestolino di arco di cottura e facciamo scaldare la salsa. Trascorsi 4 minuti il nostro tonnarello è bello oriente. Lo scoliamo e lo mettiamo nella salsa. Facciamo addensare. Un paio di minuti in padella. Raggiunta questa densità ancora un po' liquida, spegniamo il fuoco e mettiamo la metà del pecorino in padella. In questo modo. E la nostra matriciana è pronta per essere impiattata. La matriciana è pronta. La matriciana è pronta. La matriciana è pronta. Grazie a tutti.